Adesso la spegniamo che mi dà un fastidio, non riesco a tenere... Questa luce è veramente forte e fastidiosa, io adesso capisco quei divi che usano... Sempre sotto quella luce forte, una luce... Una luce che li acceca, una luce... Sempre lì sotto la luce... Lo so, è meglio con poca luce comunque... Eh però dopo vengono bui, adesso qua non stavano bene... Vengono bui però, io non sono più sflesciato dal video, cioè in questo momento... Eh però è buio figlio, comunque il momento comico, il comico c'è sempre, il momento comico... C'è stato anche un momento triste... E questo dipende infatti dalla qualità dei video, adesso lui spezzetterà, taglierà... Si taglio, vedo, si farà cose... Magari in lungo c'è anche questo... Magari taglio anche questo... E poi... Vai salutiamo... Salutiamo... Aspetta riaccendiamo... 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 Ah l'accendiamo... L'accendiamo eh... L'accendiamo... Vai tutta proprio sparata, più forte che si può... Vai allora... Spero... Vai iscrivetevi al mio canale... Com'è che... Iscrivetevi al mio canale, se vi è piaciuto il video... Mettete un like... E... La campanella... La campanella... Attivare la campanella... Così vedrete quando ne pubblico un altro... Subito pronto... Senza dover aspettare... Cose... E poi... Basta... Ciao... Ci vediamo... Ci vediamo... Eh... Arrivederci... Arrivederci... Saluti e baci... You say... No no no... Vai manda anche il bacio... Manda un bacio... No no no... No no no... No no no... No no no... No 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 no... Guarda che... Adesso mi fonto un'altra... Ah vedi così... Almeno si vede un po' meglio... No... Tutto buio... Buio no è vero... Eh che cazzo... Diciamo che il light giochi... Non si sta impegnando... Fa vedere... Si... Già un po' meglio... Comunque è ancora molto buio... tonalità? tonalità di luce? no si vedono bene i colori comunque sono belli no? facciamo vedere adesso è spento allora ma chi è che corre qui invece? Michele in pista curva verso sinistra e continua a passare la macchina ma vede un intraccio all'ora si ferma e beh che dovevo fare? in retro poi guarda quando poi lo sprint di prende merced sono risolto in quel modo la butta sempre pendente non va sempre caliente comunque è il mio giro domenicale si può dire giro domenicale la domenica lo sa giro domenicale un giretto questo le due del pomeriggio si fa sempre e vado come prima tappa al mio fiume faccio sempre un giro è il mio è il mio ormai è mio e guardo quant'acqua c'è poi c'ho no no c'è anche un lavoro mi pagano devo prendere tutti i sassolini riputtarli dentro il fiume è il mio lavoro mi pagano e guardo la qualità dei sassolini quindi per quello faccio sempre una tappa guardate un inquinamento da chiaino vedi ecco come comunque tappa al fiume non si passa no una volta si andava ma adesso come abbiamo detto prima bisognava fare giro dal ponte nuovo e non si può passare lasciamo corso al fiume comunque guardato l'acqua c'è c'era l'acqua però si riparte se una parte dall'altra parte comunque ecco qua vado oggi sono ecco ah un'altra cosa fondamentale oggi è stato bravo ho andato piano confermo confermo ho fatto il bravo io già che non li ho visti i video perchè stavo per andare via ma non potevano più vabbè non ho fatto tanni non mi sono ricattato per le persone per dire il tipo da tipo che mi ha messo la retromarcia così magari in un altro momento mi sarei incartato comunque ecco qua decido di andare sulla statale cioè in realtà non volevo andare sulla statale però ho detto prendo qui che prendi la strada nuova però tiravo dritto questa rotonda andavo così dritto per dritto però a quel punto mi è venuto un po' vado a destra vado a sinistra e alla fine ho detto il mio istinto e poi andavo a destra mi sono preferito la sinistra e la destra eh cos'è la sinistra cos'è vabbè inizia la capo vabbè è una un flashback no vabbè comunque alla fine ho deciso di continuare sulla statale diciamo e andare giù verso San Giovanni e la statale è molto sgombra no anzi vedi c'è sempre il traffico no qui potevo qua si può andare 90 all'ora qui ci poteva andare però invece cosa c'è? il tabaco una macchinina senza patente che vabbè cuorino fa quello che può però tutti quanti in fila così io già anche qui volendo potevo fare il matto prendevo e andavo hai capito? qua aprivo il gas ciao saluti arrivederci e invece e invece oggi ho detto faccio la persona regolare bravo oggi oggi come sono stato? bravo e regolare bravo vedi? guarda guarda qui qui potevo andare qui avevo avevo poteva ripartire della sua vena poetica il morto esatto però ho detto in qualsiasi momento oggi no oggi voglio fare il bravo ok e qui vado verso San Giovanni che invece la volevo fare all'incontrario l'avrei fatta all'incontrario e poi avrei fatto la statale a tornare in su e invece ho fatto così e quindi comunque si qui non andavo piano vedo che le macchine non ci sono vado solo che poi a parte che c'è l'autovelo avrei rallentato lo stesso però ho fatto a parte che mi hanno sentito arrivare sicuramente e poi ecco lì guarda guarda eh sono però c'era comunque dopo c'è il cabinotto qua dell'autovelo quindi portiamo che gli alberi su una strada sono sempre molto belli ah si in mezzo lì così belli Dio buono quando li prendi quando li prendi quando li prendi quando li prendi un albero è una bella foglia no poi adesso non c'è una foglia e va bene qui andiamo avanti guarda qui adesso andiamo un po' avanti andiamo perché tanto qui c'è un altro velox e vado piano ecco 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 questi velox vedi qui vado piano qui faccio la rotonda però tranquilli vedi vado bravo bravo e qua siamo abituati ai soltori pesati ah qui incontro i soltori ad uno dei booster ecco vedi eh vogliamo parlare anche delle cose e anche loro non c'è devono andare piano ma perché e infatti qui eccoli eccoli adesso no ah no dopo qui c'è un altro autovelox andiamo il booster vai fanno uno ad uno mi sa verso cattolica perché tutte le domeniche li incontro e sono tanti e tanti anche di più che avveso il booster potrei andare anch'io con loro però dopo facciamo un bel giro però dopo facciamo un bel giro ci costiamo di fermi guarda c'era un sacco di vento c'era oggi era difficile andare era molto difficile vento sposto eh infatti vedi poi andavo piano guarda che bravo hai visto? guarda 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 un motociclista modello un motociclista modello guarda ah ecco facciamo vedere le bandiere guarda il vento che tirava dalle bandiere hai visto? avete visto? perché non è see you in lingua italiana per far vedere il vento che tirava io ho visto voi avete visto? poi anche qua non si sa mai poi c'è una buca che non mi piace lì ecco arriviamo in centro dico un giro me lo faccio però piano 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 sempre piano 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 poi infatti c'è la gente a piede poi qui vedevole sono stati i miei amici che erano lì al bar e qui vado in centro qui quindi piano 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 qui in centro piano Dossi San Pietrini San Pietri di tutto e di più ci sono gente che ti attraversa quindi piano poi qui sparcheggio tutto a spina di pesce magari ti mette la retro uno eh eh non te ne accorre quindi qui piano 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 mi sono stato bravo mi sono stato bravo? si sembravi al pit stop sembravi al pit stop bravo eh esatto eh una pausa un break eh no no the break the break e qui eh un break un break un break e poi un break con i due diciamo che Certo, sì. Dopo qui volevo dare un po' ma ho detto, non trovo. Adesso qui arriva... A ogni domenica, busterini, busterini a non finire, busterini, busterini, eccolo la, eccolo. È il miglior motorino, chiaramente. Eccolo, eccolo. Ma dove vuoi andare? Mette anche la gamba, ma come sei messo? E vai. Dai, non è proprio una sferniciata, però ci siamo lì, ci siamo lì. Ci sono i busterini, i busterini. Eh, però a me mi andava a dire, sono stato buono, sono stato bravo. Buster, buster. Però a quel punto gli ho voluto, non lo so, mi è andato, ho bisogno di spiegarmi un attimo. E poi basta, era tutto nuvoloso. Comunque il cielo, sì, i colori belli. Eh, guarda il vento, c'era un sacchetto che volava, vi mette. Vabbè, dopo nel video che intanto lo monto stasera, dopo lo vedrete per prima. Vero? Infatti dopo... Sì, l'ho riguardato. Dopo è quello che abbiamo guardato qui così, che magari vedete male, in questo momento, dopo lo vedrete bene. Cerco di mettere tutto, non proprio tutto perché dura un sacco, dura 15 minuti, no, non lo so. Costa, 15 minuti. Sì. Però guarda che cielo. Sì, sì, la fai vedere. Ah, si sprende. Sì, sì, comunque c'era un cielo stranissimo. Guarda, guarda.